Il 12 novembre scatterà il fine pena per Roberto Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di carcere per corruzione. Una condanna che riguarda il periodo in cui Formigoni è stato presidente della regione Lombardia, durante il quale, secondo le accuse, ha ottenuto tangenti in cambio di una serie di concessioni alla Fondazione Maugeri e all'ospedale San Raffaele di Milano. Per i giudici, l'ex presidente aveva ricevuto in cambio soldi in contanti, vacanze gratis in Sud America, l'uso di tre iotte e una villa in Sardegna. Nel febbraio del 2019, dopo il verdetto definitivo della Cassazione, Formigoni era entrato nel carcere di Bollate a seguito dell'ordine di carcerazione firmato dalla Procura Generale. Era uscito cinque mesi dopo, quando il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso gli arresti domiciliari. Nel 2022 era arrivato l'ultimo atto del percorso giudiziario con l'ex presidente che aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali per lo svolgimento di attività di volontariato, ovvero corsi di lingua italiana per le suore straniere, che accudiscono gli anziani all'istituto piccolo cottolengo Don Orione di Milano. Anche se il fine pene è fissato per il 12 novembre, Formigoni, oggi 76enne, dovrà aspettare ancora qualche settimana per l'estinzione della pena stessa. Sarà il Tribunale di Sorveglianza a decidere dopo aver valutato la relazione prevista dall'ufficio di esecuzione penale esterna.